È un progetto che mette in rete cinque scuole di tutte le province calabresi e che si pone l'obiettivo di dialogare con i ragazzi in prevenzione sul fenomeno del bullismo perché il bullismo ha due tipi di vittime la vittima che conosciamo tutti che è il vessato dal branco o dai bulli che può essere disincentivato ad andare a scuola può diventare un disperso può essere un ragazzino anche fortemente traumatizzato e poi c'è la vittima che è il bullo stesso che è magari vittima di certi atteggiamenti macisti quasi che fanno pensare che bisogna necessariamente essere forti e prevaricare con la propria forza sugli altri noi vogliamo ovviamente contrastare questi tipi di atteggiamenti partendo davvero dalla prevenzione dal dialogo con gli insegnanti che sono gli operatori chiave con i quali i ragazzi dialogano e anche con le famiglie in questo senso la messa in rete di un progetto di questo tipo su base regionale ci permette di intervenire su tutto il territorio dalla Locride all'Alto Ionio Cosentino alla Catanzarese Vibo, Crotone per fare in modo che tutti i ragazzi beneficino di questa attività e che passi un messaggio che sia delle scuole ma anche un messaggio della regione di contrasto al bullismo per questo motivo abbiamo deciso proprio di sposarlo all'interno del piano del diritto allo studio e farlo diventare un progetto di caratura regionale Il bullismo è sempre opportuno e necessario combatterlo quindi quando scuole si mettono in rete in questo caso sono messe in rete scuole di tutte le province per cui è una rete di tutta la regione per anche difendere dal cyberbullismo che oggi giorno ci vede con botti basta leggere sui giornali episodi molto brutti quindi è bene educare i ragazzi a un uso giusto e corretto dei mezzi informatici dei mezzi di comunicazione di tutti i mezzi Facebook e altre cose i network vari che i ragazzi utilizzano e quindi questo progetto che poi questa cosa comincia dalla scuola è un discorso importante è un discorso valido quindi mi sembra giusto sostenerlo